Grazie, grazie per il benvenuto intanto. Io sono molto contento di assumere questo importante incarico. Il mio compito sarà quello di presiedere l'attività del corpo a tutela di tutti gli operatori di mercato che operano legalmente. Il nostro compito sarà quello di assicurare la sicurezza economica e finanziaria del territorio. Speriamo di riuscire in questo al meglio. Parlando dell'economia retina, la fetta più grande è quella del mondo orafo. Su questo voi avete già fatto tante operazioni. Secondo lei c'è ancora qualcosa da raccontare? Il nostro compito è quello di presidiare in maniera trasversale tutti i settori dell'economia. Chiaramente laddove si annidano le criticità è lì che dovremo intervenire in maniera più decisa. Il tessuto economico aretino, benché sofferente per effetto della crisi, è comunque connotato da numerosi operatori industriosi e legali, che operano legalmente. Per cui è a tutela di questi che noi dobbiamo dare il meglio del nostro sforzo. Nel tempo abbiamo visto che la vostra azione è spaziata anche su campi non storicamente vostri, come ad esempio l'utilizzo dei fondi europei, insomma quindi anche le sfere del sociale un pochino più delicate. Sì, il tema della spesa pubblica è un tema che mi sta particolarmente al cuore, anche per i miei trascorsi di esperienza operativa. Quello dell'impiego corretto delle risorse è uno degli obiettivi strategici della Guardia di Finanza e in questo, soprattutto negli ultimi anni, vengono profuse particolari ed importanti energie. E anche in questo territorio faremo altrettanto.